C'è un oggetto che è presente in quasi tutte le case dei veri food addict ed è Kitchen Ed è una persona di incontrare Gloria, responsabile Italia di Kitchen Ma che cos'ha di diverso? Perché piace così tanto questo apparecchio? Innanzitutto è bellissimo È vero È bellissimo ha questo design che è inconfondibile e che ha quasi 100 anni di vita da raccontare Quindi nei 100 anni è migliorato dal punto di vista tecnologico ma il design è rimasto uguale E poi anche dal punto di vista tecnologico consuma pochissimo perché il motore è davanti proprio dove c'è la testa Beh questo è importante Assolutamente sì Qui è sostenibile anche come apparecchio Assolutamente sì e quindi le prestazioni sono eccellenti proprio per il fatto che il motore essendo davanti non hai queste cinghe di distribuzione che consumano e perdono energia E quindi è in grandissima potenza che si misura anche in cavalli vapore quindi prestazioni eccellenti Con basso consumo energetico Assolutamente Senti però quando gli architetti ti dicono ho un'idea fantastica per questa stanza e poi diventa assolutamente non funzionale quindi bellissimo ma è facile da usare Assolutamente sì ci sono i tre ganci che vengono dati in dotazione uno proprio per montare quindi questa frusta filo in cui dicono i grandi pasticceri che il pan di spagna e le meringhe fatte con È vero anche molti food blogger me l'hanno detto È vero è vero è vero E poi ovviamente il gancio per impastare con il movimento planetario testato KitchenAid quindi la ciotola viene toccata da questo gancio in nove punti proprio per dare la reazione all'impasto corretta E ogni tipo di dolce diventa raro Assolutamente Grazie Grazie a te Piacere A presto Ciao 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 Seguici su foodmadeinitaly.eu